Soltanto che leggere l'SMS che c'è arrivato al 336206468 dedicato al nostro Matteo Eroldi, un bel complimento perché il nostro ascoltatore che non si firma purtroppo però dice Matteo senza pizzetto sei ancora più bello, sempre Forza Sutor. Dopo mille critiche che mi sono arrivate prezzolato di qua prezzolato di là finalmente un complimento anche dal punto di vista fisico e credo provenga da una donna quindi che saluto chiunque essa sia che saluto con piacere e ringrazio. Ecco perfetto tutti felici e contenti quindi al termine di questo primo blocco magari un uomo si scopre ho comunque un ammiratore chiunque essa sia è un ammiratore che saluto con piacere. E lasciamo la porta aperta, lasciamo la porta aperta e dopo la pubblicità torneremo invece con Simone Eterno di intervistasportiva.com per la nostra consueta rubrica sul calcio estero, a tra poco.